Mister, sabato un impegno difficilissimo contro una Torres che viene da 13 vittorie su 13 gare disputate. Verona che è sempre alle prese con i soliti problemi di formazione e di infortuni. Sì, certamente non è stata una grandissima settimana quella che diremmo anticipato la partita. Fra infortuni, nazionali e malattie non siamo riusciti ad allenarci come volevamo. Comunque la squadra è preparata in un buon momento. Sappiamo che andiamo a affrontare un avversario difficilissimo. Però vogliamo dire la nostra, vogliamo rientrare nel giro che conta in classifica. Siamo in tempo di Natale, in tempo di regali. Cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Vorrei ritrovare la mia squadra, la squadra che conosciamo, ma soprattutto vorrei trovare la salute nelle nostre atleta. Sarebbe la cosa più piacevole.